A Canosa di Puglia c'è un patrimonio storico composto da 150 marionette che raccontano un pezzo di storia del paese e dell'ultimo manovratore. I dettagli nel servizio di Alba Di Palo. Le cura come fossero figli perché raccontano non solo la sua famiglia ma anche uno scorcio di storia finora quasi sconosciuto. Salvatore Taccardi, 70 anni, è l'ultimo manovratore di marionette di Canosa di Puglia nel nord barese. Nelle sue mani la capacità di rendere vive storie custodite in copioni manoscritti che narrano di vicende epiche e storiche e lui che assieme ai fratelli e al padre li ha portati in giro per l'Italia ora le coccola come scrigni di un passato che risale al 1882, anno in cui emergono le prime testimonianze degli spettacoli animati da mani veloci nel muovere i fili che diventano storie dalla fattura napoletana. Un patrimonio culturale più che folcloristico e una vita praticamente era presente perché abbiamo lavorato e abbiamo girato l'Italia, dato un sacco di soddisfazioni, ci abbiamo messo l'anima. Le marionette con teste create da legni di noce o faggio, occhi in cristallo e abiti in velluto danno vita ai paladini di Francia, di Carlo Magno, delle crociate, con copioni tratti dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso e dall'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, trascritti in linguaggio popolare per educare la cultura coinvolgendo così il pubblico dell'epoca, non proprio adotto ma curioso del passato e Salvatore conserva tanti ricordi legati agli spettacoli, dalle locandine e le scenografie che hanno contribuito al successo. Che ricordo ha legato a quando con la sua famiglia andava in giro a fare spettacoli? Ce ne sono tanti, ce ne sono. Uno in particolare per esempio Alcicastello, festival internazionale, 17 compagnie siciliane. Noi e una napoletana. Arnoldo Foa, presidente della giuria, attore Arnoldo Foa, primo premio dell'Aquila di Canusa. Le marionette, 150 in tutto, diventano un mix tra cultura aulica e popolare in grado di restituire alla città il senso della sua identità, delle tradizioni e dei saperi che attendono di essere valorizzate. Abbiamo chiesto l'intervento della sovintendenza della Regione Puglia e del Comune. Questo patrimonio, questo enorme patrimonio che ha la città di Canusa va reso fruibile e pubblico a tutti i cittadini. Ci stiamo provando con un museo che non sia una semplice mostra, ma si creano dei veri e propri laboratori che sia in movimento.